la numero uno la più bella la più amata dagli italiani certo che gli applausi e il successo fanno sempre molto piacere però bisogna meritarseli come scavolini che fa le cucine come le amiamo noi italiani belle curate in ogni particolare complete di tutto con soluzioni adatte ad ogni famiglia e con materiali fatti per durare cucina scavolini la più amata dagli italiani